Buongiorno e ben trovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, iniziamo la nostra rassegna stampa con le prime pagine regionali, alle mie spalle già vedete la prima pagina del centro nell'edizione di Pescara, andiamo a vedere insieme allora il titolo di apertura e Angelucci, il successore di Beci, accordo sulla presidenza della Camera di Commercio di Chieti e Pescara. Andiamo adesso nel taglio alto, vedete la foto dell'abbraccio del Presidente della Repubblica con i familiari delle vittime di Rigopiano, in particolare con la madre di Dino e di Michelangelo, il grande abbraccio di Mattarella, infatti il titolo del quotidiano Il Centro, Rigopiano il Presidente incontra il Quirinale, i parenti delle 29 vittime e poi il giornale propone anche un estratto della della lettera che poi viene pubblicata integralmente a pagina 2, la lettera che hanno scritto i familiari al Capo dello Stato, lasciati soli, senza un aiuto concreto. Presidente, essere qui al suo cospetto, scrivono i familiari delle vittime, ad un anno dalla tragedia che ci ha tolto quanto avessimo di più importante, è per noi come intravedere un piccolo lumicino all'interno di un tunnel tenebroso in cui siamo entrati, quel maledetto 18 gennaio e da cui non sappiamo se riusciremo ad uscire. Un anno fa eravamo lì in quell'ospedale dove siamo stati ammucchiati e lasciati soli in balia delle notizie che arrivavano dall'esterno. E poi continuiamo con la cronaca giudiziaria inchiesta in 5 verso il processo per il rogo sul Gran Sasso. Andiamo a vedere adesso a centropagina nella fotonotizia il rogo doloso ad Abbateggio, gli incendiano 130 animali ma lui dice non mollo. Si tratta di Paolo Di Biase che vedete nella fotografia, parla dell'incendio subito nei giorni scorsi nello stazzo di Abbateggio in montagna, ha costato la vita circa 130 animali, un rogo doloso di fronte al quale Di Biase e la compagna Alina non si arrendono nonostante i danni enormi subiti. Non mollo, dice, significerebbe dar la vinta a chi ha fatto una cosa del genere. Andiamo a vedere poi nelle cronache di Pescara. Lavori in Viale Muzzi, commercianti in strada contro la pista delle bici. Poi scendiamo sempre a Pescara, automobilista, investe un ciclista e non si ferma. Altra notizia invece che riguarda lo sport e il calciomercato, Pescara si cambia sia Ingelson Zampano verso Udine. Di spalla troviamo anche l'intervista a Enrico Brignano. Porto in scena i nostri vizi. L'attore romano sarà di nuovo in Abruzzo per il suo spettacolo. Nel taglio basso troviamo il buongiorno Abruzzo di Giuliano di Tanna. Meglio spacconi che falsi modesti, a dirlo. È uno studio che dice che i falsi modesti raggiungono sempre il risultato opposto a quello voluto. Proseguiamo sul quotidiano del centro. Andiamo a vedere insieme adesso la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto. Il titolo di apertura è praticamente lo stesso rispetto a quanto visto sulla pagina di Pescara. Industriali, accordo su Angelucci. Camera di commercio di Chieti e Pescara ha deciso il successore di Daniele Becci. Ritroviamo anche nel taglio alto l'abbraccio di Mattarella ai familiari delle vittime di Rigopiano. Poi a centro pagina andiamo a vedere nella fotonotizia Palasport Gremito per i Winter Games. Bucchianico, capitale del CrossFit con 170 atleti in gara. È successo domenica scorsa. Poi andiamo a vedere nelle cronache dalla provincia di Chieti. A Vasto rubata in chiesa una cassaforte con 30 mila euro. E poi da Lanciano case parcheggio con muffa e crepe sui muri. A Chieti, toto elezioni, ecco chi sono i candidati. Proseguiamo sempre sul quotidiano del centro. Andiamo a vedere adesso la prima pagina della edizione di Pescara. Titolo di apertura Palasport e la rivolta delle società. Teramo protesta dopo l'ipotesi di chiusura ventilata dal commissario. E poi a centro pagina troviamo la notizia di sport della giornata di ieri. Ribaltone in casa del Teramo. Via Asta arriva Palladini. Vedete la foto della conferenza stampa che si è tenuta ieri alle 15 all'interno dello stadio Bonolis. Le riflessioni del patron Campitelli, leggiamo dalla Dida Scali, hanno portato a Ribaltone in casa Teramo. Niente prova d'appello per il tecnico Antonino Asta esonerato dopo la sconfitta interna con il Vicenza. Via lui e il DS Giorgio Repetto. Al loro posto arrivano l'allenatore Ottavio Palladini e il DS Sandro Federico. Andiamo a vedere adesso nelle cronache, sempre da Teramo e provincia, il primario radiologo di Egidio verso l'addio all'ospedale. Ancora alla Camera, il PD plaude alla candidatura di D'Ignazio. E poi processo Castrum, richiesta delle difese. Dateci le intercettazioni. Andiamo ancora avanti, sempre con il Quotidiano Il Centro, l'ultima delle quattro edizioni provinciali che andiamo a vedere, quella di L'Aquila Avezzano Sulmona. Il titolo di apertura rischia l'aumento, la tassa sui rifiuti all'Aquila. Ci sono errori nei calcoli, tariffe dei contribuenti tutte da rifare. Andiamo a vedere adesso nelle cronache a Pesca Seroli il caso della neonata morta. Il padre finisce sotto inchiesta dopo aver confessato che la bimba gli è caduta mentre le stava dando il latte. Questo ha provocato l'emorragia che poi l'ha portata la morte e dunque per il padre è scattata l'inchiesta per omicidio colposo. E poi ad Avezzano Maxi Multi a 380 allevatori scatta la rivolta. Andiamo al Comune di Sulmona adesso. Chiesti i danni ai furbetti del cartellino. Ricorderete l'inchiesta appunto sui furbetti al Comune di Sulmona. E poi l'Aquila, la festa di Sant'Agnese nella fotonotizia, la sfida delle lingue lunghe, l'esercito degli eletti. È un vero e proprio esercito, quello degli eletti delle lingue lunghe aquilane. Tra sabato e domenica sono state assegnate le tradizionali cariche della festa di Sant'Agnese nelle cene delle varie congreghe con fraternite ufficiali e non. Oggi pubblichiamo il secondo elenco e le foto con le varie lavannare, mamme e presidenti. Proseguiamo adesso con la lettura della prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Eccola qui. Elezioni. È subito scontro. Il titolo di apertura è sulla politica verso le elezioni. L'EU paracadutati da Roma nei due sodiseggi sicuri nel partito Scoppia della rivolta. Movimento 5 Stelle tra conferme e new entry. È polemica per l'esclusione di candidati aquilani. Dunque questo è un po' il sunto della politica proprio in vista delle prossime elezioni il 4 di marzo. In questa finestra l'Aquila Teramo, Camere di Commercio scatta la fusione. Nascerà entro l'anno la nuova Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia che unisce i due enti camerali Aquilano e Teramano dopo quanto avvenuto su Pescara e Chieti con la Camera di Commercio, possiamo dire così, dell'area metropolitana. A centro pagina, dopo l'anniversario, un anno dopo la valanga assassina a Rigopiano, le vittime, le famiglie delle vittime da Mattarella. I sopravvissuti sono stati ricevuti ieri dal Presidente della Repubblica Mattarella e dal Premier Gentiloni. Proseguiamo con la cronaca. Donna stuprata, querelate le sue sostenitrici. L'Aquila in 50 protestano contro l'iniziativa legale promossa da un avvocato. Andiamo avanti con la lettura del giornale. Andiamo a vedere di spalla. Adesso shopping a scrocco. Ladri Bongustai rubano stock di baccalà, alici e sardine. Questa è una notizia anche curiosa. Di cronaca rubata merce per 5.000 euro. Il titolare è stato un duro colpo. Nel taglio basso invece andiamo a Pescara. Barboni e Restyling. Una piazza divisa e Piazza Sacro Cuore, proprio in centro città, a due passi dalla stazione centrale, da Piazza Salotto. Andiamo nel taglio alto per vedere le altre notizie di giornata. Ambiente, lago di Bomba dalla regione Altolà contro le trivellazioni. A vasto sparite le spycam con cui venivano incastrati i furbetti dei rifiuti. E per il calcio cambia tutto. A Teramo, Palladini è il nuovo allenatore. Ha esonerato Campitelli. Anche il DS Repetto al suo posto Federico Pescara. Il ne ha acquisto falco sia infortunato. Forna si è richiesto dal Perugia. Dunque queste le notizie per quanto riguarda la Serie B e la Serie C. Andiamo a vedere adesso la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Il titolo di apertura, giù le mani dal Palas Capriano. Il Teramo Basket propone un'alternativa alla chiusura del palazzetto da parte del commissario. Andiamo a vedere le altre notizie. C'è la riflessione oggi di Marcello Martelli. Il titolo eloquente, cercasi sindaco dopo il commissariamento del comune. A centro pagina, nella fotografia di un asta perplesso, asta la vista. Il titolo chiaramente sull'esonero dell'allenatore del Teramo. Palladini è il sostituto. Ora andiamo nel taglio alto per vedere le altre notizie. La variante alla statale 81. Garrano prepara un esposto contro l'ANAS e poi a Tortoreto il PRG della discordia pronto per il Consiglio. Di spalla la politica. C'è un quarto rosetano in corsa per il Parlamento. E poi ancora il documento. il PD Teramano rivendica un candidato utile. Centro Democratico. Tutti i dem al comitato di Giorgione. Sarebbe Giorgio D'Ignazio. E poi sotto la fotografia Convegno ASL che viola la par condicio pubblicizzata alla presenza di un onorevole medico del Partito Democratico. Nel taglio basso invece l'annuncio. Camere di commercio di Teramo e l'Aquila fusione entro il 2018. E questa era anche la prima pagina della città con cui lasciamo le prime pagine regionali. Apriamo lo spazio dedicato alle prime nazionali. Andiamo a vedere i titoli dei principali quotidiani italiani partendo dal Corriere della Sera che apre sulla politica voto le critiche dei Vescovi. Verso le urne il Cardinale Bassetti dice immorali le promesse impossibili. A sinistra intanto duello sui collegi. Berlusconi nel frattempo va a Bruxelles. Apertura di credito dall'Unione Europea. Rispetteremo i vincoli. Questo ha detto il Cavaliere. Nel taglio alto invece il vertice di Davos. Le stime sul PIL rivista Rialzo e il Fondo Monetario Internazionale all'Italia non frenate sulle riforme. Questo è il richiamo in vista delle elezioni a tutta la politica italiana. Per quanto riguarda invece il fondo scritto da Ernesto Galli della Loggia. Parlamento, gli eletti e i due mali da evitare. Il trasformismo e un Parlamento di nominati. Insomma vi riassumo quali sono i due mali da evitare. Sulla Repubblica invece il titolo di apertura. Razzismo. Vescovi contro la Lega. Bassetti rievoca il fascismo. No a cultura della paura. Salvini espellere 500.000 immigrati. Questa è la sua risposta. Berlusconi a Bruxelles per assicurare l'Unione Europea. Bologna collegio a rischio. Renzi sposta. Casini. Questo anche qui c'è un piccolo riassunto della giornata politica. E poi troviamo il commento di Alberto Melloni. Parole dure nel solco del Quirinale. Questo è il commento alle parole del Cardinale Guardiero Bassetti. A centropagina nella fotonotizia. Il vertice di Davos. Vertice gelato. Mai festa per il PIL europeo e italiano. Proseguiamo con la lettura dei quotidiani nazionali. Adesso andiamo sulla stampa. Il Papa. I robot siano al servizio dell'uomo. Questa l'apertura. Francesco scrive ai grandi riuniti a Davos. Le innovazioni non diventino una minaccia. Il vertice in Svizzera. Il Fondo Monetario Internazionale alza le stime per l'Italia. PIL al più 1,4% nel 2018. Ma le elezioni mettono a rischio le riforme. Di spalla troviamo il vertice europeo di Berlusconi. A braccia e promesse il PPE riabilita Berlusconi. Andiamo a vedere anche il fondo di Mario De Aglio. Il titolo. La crescita debole che ci aspetta. Andiamo a vedere adesso la prima pagina del Fatto Quotidiano. Anche qui il titolo di apertura. Gentiloni si avvita la poltrona. Attacca solo il Movimento 5 Stelle e si tiene buono Berlusconi. Lui la soluzione trovata dall'Unione Europea per un governo obbediente sceglie i nemici da attaccare evitando con cura Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Il PD lancia Pado a Nassiene e nasconde boschi. No di Burioni a Renzi. Intanto correrà a Roma in un collegio blindato. Si parla chiaramente delle premier Gentiloni. Tutto è perdonato. Siamo a Berlusconi. Vertice coi popolari. Caimano in ginocchio da Merkel e Juncker che vogliono l'inciucio. Scendiamo a centro pagina. Andiamo a vedere quest'altra notizia. Il capo degli infermieri precari guadagna 200 mila euro l'anno. La storia, nonostante la legge Madia, continua ad avere stipendio e rimborsi. Le leggi sono interpretabili. Il Sole 24 Ore apre con i Bitcoin primi in antiriciclaggio. Con la nuova disciplina sono finite sotto esame anche le criptovalute da tempo, diciamo sotto l'occhio del ciclone. Andiamo a vedere un'altra notizia che riguarda le borse. Lusso Richemont lancia un'OPA da 2,7 miliardi sull'e-commerce. Andiamo a vedere adesso il manifesto, il titolo di apertura, come riconsueto sulla fotografia, Mondo Cane. All'annuale vertice di Davos, il Fondo Monetario Internazionale brinda l'aumento del PIL ma a guastare la festa. Arriva il rapporto Oxfam sulla crescita vertiginosa della disuguaglianza. Il 2017 si guadagna la maglia nera per la concentrazione della ricchezza e in Italia la forbice si allarga. Vedete, il quotidiano comunista mette in risalto un aspetto, una sfaccettatura diversa rispetto agli altri quotidiani. E poi il Papa, di ritorno dal Cile, pedofilia, Bergoglio chiede scusa alle vittime ma su Barros non arretra e dice che non ci sono evidenze. Il Papa ha chiesto scusa per la parola prova che aveva pronunciato parlando delle prove che mancherebbero per incriminare Barros ma il Papa non ha fatto marcia indietro chiedendo scusa per la parola ma cercando di ribadire il concetto. Proseguiamo sul messaggero, il titolo di apertura del quotidiano romano, sfida sul fisco, costi e guadagni, la corsa elettorale dei partiti sul taglio delle tasse dagli sconti per i figli alle aree di esenzione, la flat tax al 23%, i vantaggi per reddito e l'incognita copertura e battaglia tra Berlusconi e Renzi. Il messaggero da tempo fa questa campagna di analisi delle promesse elettorali. A proposito di promesse elettorali, l'affondo della CEI dopo il caso Fontana, i vescovi contro la Lega, basta razzismo ma Salvini dice che l'immigrazione va regolata. Intanto missione Bruxelles, Silvio rispetterò il 3% ed evoca Tajani Premier. Troviamo anche il fondo di Alessandro Campi che è una riflessione sul nuovo asse franco tedesco che non rispecchia, scrive Campi, più l'Europa, la firma 55 anni dopo il trattato dell'Eliseo del 23 gennaio 1963 con Francia e Germania che si apprestano a firmare entro la fine di quest'anno un nuovo patto di alleanza e cooperazione. Andiamo adesso a centropagina, si uccide il papà Orco, la figlia aveva rivelato le molesti in un tema, Cassino si è impiccato, era un agente di custodia, la moglie dice le accuse erano ancora da provare. Andiamo sul quotidiano Il Tempo, ancora giornali romani, il titolo di apertura vi piace perdere facile? Comiche regionali, sembrava fatta sul nome di Rampelli, chiaramente si parla delle regionali nel Lazio, ma Salvini ha messo il veto, altro tempo buttato, slitta la nomina per il candidato unico e si riparla di San Giuliano. E poi altra notizia, a casa di Monte Carlo ha chiesto il processo per fini Elisabetta Tugliani, il cognato e il suocero. L'ipotesi è il riciclaggio sui soldi di Corallo, il re del gioco che ha inviato milioni alla famiglia Tugliani. Andiamo su Libero, l'apertura e la notizia che vi ho letto in precedenza, fini sotto processo per la casa di Monte Carlo. Otto anni dopo lo scandalo, la procura si decide a chiedere il giudizio per riciclaggio nei confronti di Gianfranco, avevamo ragione noi a denunciarlo, i magistrati si sono mossi con molto ritardo e solo quando era finito politicamente. Questo scrive Vittorio Feltri, fu proprio un'inchiesta di Libero a aprire una luce su questo caso. Poi a centropagina troviamo il Movimento 5 Stelle, Di Maio senza freni, pensioni di cittadinanza, non bastava la paga assicurata e senza lavoro, ora pretende assegni a chiunque. Il programma 5 Stelle è una fregatura, scrivono Paolo Becchi e Giuseppe Palma, insomma la posizione del giornale è abbastanza chiara. Andiamo sul giornale, anche qui l'apertura è dedicata al caso della casa di Monte Carlo, casa di Monte Carlo, fini, finito, malissimo. I PM chiedono il rinvio a giudizio per riciclaggio per l'ex leader di Alleanza Nazionale e i Tugliani, siamo ai titoli di coda. Sulla verità, il titolo di apertura, seggi sicuri con i nostri soldi, la Boschia e Padoan vanno all'incasso, il ministro dell'economia si candida a Siena dove il governo ha speso 5,5 miliardi per salvare Monte dei Paschi, dipendenti e investitori compresi. La sottosegretaria paracadutata a Bolzano dove la SVP ha più di un favore da ricambiare, così scrive Maurizio Belpietro. Andiamo a centropagina, la fine di Fini e dei Tugliani, la procura dice tutti sotto processo. Continuiamo a centropagina, indagine sugli affari di Partigiani e Arci, la Corte dei Conti esamina i buchi nel bilancio di Sesto San Giovanni e scopre una affittopoli rossa. Andiamo su avvenire, il titolo di apertura, eccolo qui, ricostruire, ricucire e pacificare l'Italia. Bassetti politici difendano gli ultimi e la vita, fermono alla cultura della paura e al razzismo, così l'apertura del quotidiano cattolico. E poi nel taglio alto, nella fotonotizia, Francesco, sugli abusi nessuna tolleranza. Il fatto, sul volo di ritorno dal Perù, il Papa risponde ai giornalisti e in merito al caso Barros dice, chiedo scusa se ho ferito le vittime con la parola prove. Andiamo a vedere adesso anche il mattino di Napoli, un'apertura differente rispetto a quanto visto in precedenza, che siamo alla cronaca, terrore e morte in famiglia. Bellona uccide la moglie, poi spara i passanti e infine si suicidia. Cava accoltellata dal marito. La foglia di un'ex guardia giurata casertana, simpatizzante di Forza Nuova, 50 colpi esplosi dal balcone, vedete Davide Mango che è il protagonista di questa bruttissima vicenda. Poi andiamo a vedere le altre notizie, qui di spalla, sfida di Forza Italia, sgarbi anti Di Maio, il critico d'arte, candidato a pomigliano, la CEI, immorali, le promesse a vuoto. Questo è il titolo invece sulla politica. Andiamo a vedere adesso i quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, in apertura chiaramente la partita di ieri sera. Douglas Goal, minimal Juve, battuto 1-0 il Genoa. Juve che torna meno uno dal Napoli. Stavolta i bianconeri vincono dopo la sosta, ma senza brillare. Decide il brasiliano, sempre più importante nel gioco di Allegri. Andiamo nel taglio alto invece, troviamo il mercato, SMS mercato, Spalletti all'Inter serve, un centrocampista forte, il tecnico Nerazzurro preoccupato dopo il pari con la Roma, chiama Suning. E poi le trattative, Corafinia, Starridge, ok, Seeder va in Premier. Di spalla invece troviamo il Milan, con questa foto di Gattuso, la società ci sta pensando. Idea del Milan, un Gattuso in stile Conte. Apprezzato il lavoro del tecnico che ha sostituito Montella. Zeko saluta e del Chelsea, la Roma va su Delofeu, questo è il mercato della Roma, e poi la Lazio, talento della Lazio, fenomeno Milinkovic, ora vale 100 milioni. E poi c'è una notizia curiosa che sfiora lo sport, UEA adesso è presidente della Liberia, così cambierò il paese, West è il nostro capitano. Questa, diciamo, la svolta in politica dell'ex stella del Milan. Andiamo sul Corriere dello Sport, anche qui il titolo di apertura è sulla Juventus, Macina Juve. I bianconeri ripartono dall'1-0 al Genoa, decide il guizzo di Douglas Costa, Allegri, Sarri e il calendario? Non capisco. Poi nel taglio alto troviamo il Napoli, Napoli che acquisto, improvviso blizza Lisbona, l'obiettivo è il terzino spagnolo del Benfica, la trattativa parte da 25 milioni, operazione in fase molto avanzata, giuntoli dunque in Portogallo per Grimaldo, il nuovo Dani Alves arriva a giugno. Andiamo nel taglio basso per l'Inter, dentro i dubbi di Spalletti, il tecnico continua a chiedere rinforzi, ma il club ha già investito 130 milioni. E poi il rugby, la scommessa dell'Italia per 14 giocatori della Nazionale sarà la prima volta al 6 nazioni. Ancora il basket, Rissa di Bologna, stangato, gentile, tre turni al giocatore della Virtus Gutierrez di Trento, se la cava con due. Andiamo su tutto sport ora, il titolo anche qui è sulla Juventus in apertura, la Juve c'è e non molla, liquidata con un 1-0 la pratica Genoa, con un gol di Douglas Costa, i bianconeri tornano un solo punto dal Napoli, ormai per lo scudetto è testa a testa tra Sarri e Allegri, ansia per Alex Sandro, problema alla schiena. Di spalla c'è il Toro, pressing Don Sama serve di più e poi il mercato Napoli, Blitz Grimaldo, Roma invece idea dell'Ofeu e Vittorio Feltri scrive che noia i lamenti di Sarri. Troviamo anche l'Inter, spalletti perplesso, Kovacic l'Inter preme per Eder, l'Inter preme poi Eder, blocca l'arrivo di Starridge. Nel taglio basso dall'estero Alexis Sanchez, allo United, Mkhitaryan all'Arsenal e poi per la Formula 1 a monoposto pesanti i piloti messi a dieta. Questa era l'ultima notizia per la prima parte della nostra rassegna stampa, adesso ci fermiamo per il break, prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore con i nostri esperti di Metto 6 e poi torniamo con la seconda parte della rassegna per approfondire le notizie dalla nostra regione. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Come detto torniamo alle notizie dalla nostra regione andando ad aprire le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. In primo piano sul quotidiano Il Centro l'incontro al Quirinale tra i familiari delle vittime di Rigopiano e il presidente Mattarella. Rigopiano, patto tra Mattarella e i parenti. Il presidente abbraccia ai familiari delle 29 vittime e poi si impegna a sostenere le loro richieste elencate in una lettera. Lettera che troviamo di spalla sul quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere un estratto nella parte finale così per capire il senso della lettera. Poiché un evento come il nostro non può essere considerato una strage provocata dall'impudenza umana. Le chiediamo se lei possa intercedere affinché il Parlamento metta all'ordine del giorno la modifica di una legge che estenda la valenza anche al nostro caso. Purtroppo le nostre possibilità difficilmente possono sostenere la battaglia per la verità che stiamo per affrontare. Per questo le chiediamo come garante della Costituzione di darci la possibilità di inseguire quello che è un nostro diritto. Sperando che le nostre richieste possano essere accolte la ringraziamo per quanto potrà fare per noi. Questo ha scritto il Comitato Vittime di Rigopiano. Poi troviamo ancora questo incontro al Quirinale. Un decreto urgente per gli orfani Federica Di Pietro a Mattarella. Il disegno di legge c'è sia garante della Costituzione. Questo l'appello al Presidente della Repubblica. Andiamo avanti nella pagina di Primo Piano, sempre sul quotidiano Il Centro. L'inchiesta sull'estate dei disastri, rogo sul Gran Sasso in 5 verso il processo, incendio e favoreggiamento. Partite le richieste di rinvio a giudizio. Ora la prevenzione passa per un atto di 20 associazioni. La decisione della Procura Aquilana arriva a pochi giorni di distanza da un importante incontro avvenuto in Regione con la firma di questo atto che riguarda 20 associazioni. La carta per la lotta agli incendi boschivi è uno strumento con cui si spera di ottenere risultati concreti in questo campo. Nel taglio basso, Grandi d'Abruzzo, Addio Igino, protagonista della Resistenza. Rocca di Mezzo muore a 96 anni, uno degli ultimi partigiani. Fu anche medico di Napolitano e Amendola. Andiamo nella pagina Abruzzo adesso. Le trivelle in Val di Sangro. Andiamo a vedere il titolo. Lago di Bomba stop all'estrazione di gas. No al progetto da Regione, 23 comuni, comitato cittadini e ambientalisti. Da Alfonso contro il ministro, un carteggio sospetto. Questo è emerso durante la conferenza stampa di ieri e noi andiamo a vedere insieme il servizio. Regione Abruzzo, provincia di Chieti, sindaci del territorio WWF, Lega Ambiente e Comitato dei Cittadini, gestione partecipata del territorio di Bomba, hanno sottoscritto le lettere che sono state inviate ai ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico per invitarli a fermare il progetto di prelievo di gas al di sotto del lago di Bomba. Un progetto dannoso per l'ambiente che mette a potenziale rischio le popolazioni locali, hanno sempre sottolineato gli ambientalisti e i comitati civici, rimarcando anche il fatto che ignori del tutto il principio di precauzione, principio sollecitato da una sentenza del Consiglio di Stato. Il problema della subsidenza, ovvero dell'assoluta insicurezza che andando a trivelare lì non accada qualcosa non solo al lago di Bomba ma ad altre aree territorialmente limitrofe, è stato sancito dal Consiglio di Stato il fatto di spostare di qualche centriera di metri il punto in cui andare a trivellare non ci mette a riparo da nessun tipo di effetti negativi di questo tipo di attività. E d'altro canto l'azione della regione segue anche quella importante che ormai sta portando avanti da un po' di tempo e che vede per esempio sul decreto calenda, sul dottor Ivelle, agire giudizialmente contro il governo. I documenti inviati a Roma sono tre, la richiesta di diniego alla valutazione di impatto ambientale via relativa all'istanza della CMI Energia denominata Colle Santo, la richiesta di ritiro del permesso di ricerca a Montepallano rilasciato alle CMI Energia e la segnalazione di irregolarità nell'iter di via presso il comitato via del Ministero dell'Ambiente. Stiamo scrivendo al Ministero dell'Ambiente e al Ministero del Gruppo Economico perché da una parte venga bocciato questo progetto che assurdamente è ancora in piedi dopo essere stato bocciato già dal Consiglio di Stato e due volte dal Comitato via regionale e secondo perché venga cancellato il sito di bomba tra quelli sfruttabili. La società cerca a tutti i costi di ottenere questo permesso, il territorio è contrario e così in modo congiunto regione, provincia e comune segniamo una tappa importante per questa battaglia. Sempre sulla pagina Abruzzo del centro è stato firmato il contratto fra Anas e De Santis S.p.A. per il completamento del fondo Valle Sangro nel tratto compreso fra la stazione di Gamberale e l'inizio della variante di Quadri e poi nel taglio basso pochi passeggeri voli da sospendere. Pescara Mistral Air invia la richiesta alla saga e chiede un incontro in regione Abruzzo. Proseguiamo con la lettura delle pagine regionali, siamo sul messaggero, nella pagina Abruzzo troviamo la politica urne agitate ai paracadutati, tra virgolette, i collegi sicuri. Leo nella bufera, il partito di Grasso, sceglie Filomena Costantino e Danilo Leva agli abruzzesi, probabilmente non resterà nemmeno un seggio. E poi 5 stelle tra Conferma e New Entry, il capoluogo rimane senza candidato e poi nel taglio basso estrazione del gas a bomba arriva all'alto là della regione, abbiamo appena visto il servizio. Andiamo nella pagina Abruzzo della città, si cambia argomento, fusione delle camere di commercio entro la fine dell'anno, l'annuncio di Lanciotti durante un incontro all'Aquila, nessuno stoppa all'iter dopo la sentenza della consulta. La precisazione per quel che riguarda l'Aquila e Teramo possiamo andare avanti perché l'accordo è precedente alla sentenza e noi possiamo andare a vedere anche questo servizio. Ad aprile il commissario aprirà formalmente i processi per il nuovo Consiglio e dunque entro il 2018 sarà costituita la nuova Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia che nasce tra le fusioni della Camera di Commercio dell'Aquila e Teramo. Il presidente della Camera di Commercio di Teramo, Gloriano Lanciotti, ha dato l'annuncio durante una conferenza stampa. Teramo e l'Aquila catturano il 72% del movimento turistico, resteranno comunque due sedi sul territorio, una all'Aquila e una a Teramo. La CNA, vista la sua consistenza, avrà ruolo importantissimo nella formazione della nuova Camera di Commercio, Gran Sasso d'Italia. La Camera avrà 155 comuni, 618 mila abitanti, 79 mila, 474 imprese registrate, 9 miliardi di valore aggiunto, 1,7 miliardi di export. Il bilancio dei due enti è importante, un patrimonio di 17 milioni di euro, un attivo circolante di 24 milioni di euro, una disponibilità liquida di 17 milioni di euro, una dotazione organica di 80 unità lavorative. Per quanto riguarda la razionalizzazione del personale ci sarà la riduzione di 10 unità lavorative, risparmio sul personale 468 mila euro. Il rilancio delle zone interne e sostegno alle imprese del territorio sono gli obiettivi della CNA di Teramo e della CNA dell'Aquila. Sono stati presentati, sempre nel corso della stessa conferenza stampa, i dati relativi al tesseramento 2017 e tutte le iniziative messe in campo dalla CNA attraverso fili imprese per favorire l'accesso al credito delle aziende locali. Nel corso della stessa conferenza sono stati riassunti anche i dati relativi al cratere sismico 2009-2016. Per quanto riguarda l'Aquila 108 comuni nel cratere e per quanto riguarda la consistenza associativa della CNA ci sono 1.546 imprese con 5.411 addetti. Si è parlato molto, in particolare ne ha parlato soprattutto il direttore della CNA Agostino del Re, delle difficoltà delle imprese per accedere al credito e il problema dell'accesso al credito resta un problema reale. Basti pensare che nonostante confidi copra dal 40 all'80% dell'importo richiesto, le struttorie sono lunghissime, le banche hanno degli iter lunghissimi e lo evidenziano i dati per quanto riguarda il credito nell'esercizio 2017. All'Aquila con un numero di pratica di 225, un importo deliberato di oltre 9 milioni di euro, quello erogato di oltre 4 milioni di euro, in istruttoria e in banca 3 milioni di euro, ciò significa che il 50% è all'esame. Sempre sulla pagina Abruzzo della città l'anniversario a Colle Maggio il ricordo delle 6 vittime dello schianto dell'elicottero del 118 a Campo Felice. Poi nel taglio basso la viabilità, sindaci chiamati a scegliere tra i due progetti ANAS, oggi l'incontro in regione per il quarto lotto della Teramo Mare, incontro che si svolgerà alle 17. Torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo ad aprire la pagina di Pescara, eccola qui, i lavori in Viale Muzzi, i commercianti in strada contro la pista ciclabile, manifestazione questa mattina, nel birino la cancellazione di 30 posti auto, la scelta del Comune, l'Ede e la Costituzione, i nostri diritti e i nostri interessi. Ancora avanti sulla pagina di Pescara del Centro, fusione dei tre comuni, Pescara è pronta a dire sì, maggioranza e opposizione trovano un'intesa per il voto di giovedì in Consiglio, Forza Italia ottene la proroga di tre anni, oggi si esprime la Commissione Statuto. Nel taglio basso subito il via libera al mercatino etnico, la Santroni di Sinistra Italiana avverte la maggioranza, noi ripensamenti o diserto i prossimi consigli. Nel frattempo a San Donato interventi per 775 mila euro per quanto riguarda la riqualificazione delle periferie. Proseguiamo con il quotidiano Il Centro, automobilista in veste cicliste fugge, incidente alla rotatoria tra via Riosparto e via Lofeudo, la vittima a 61enne ha battuto il capo in osservazione in ospedale. Proseguiamo a centropagina, dipendente Asl muore 57 anni, folla ai funerali di Lucio Morra e poi cominciati i lavori in via Tavo, presto rientro nelle abitazioni dopo l'incidente e l'incendio al ferro di cavallo. Ancora le pagine di Pescara, il Classico chiuderà l'anno con la settimana corta, il Consiglio di Stato accoglie la richiesta di sospensiva presentata dai genitori ma in attesa del Tar ritiene necessario garantire la continuità didattica. Andiamo sull'apertura della pagina di Pescara del Messaggero e ritroviamo sempre questa notizia. Classico, vittoria a metà dei genitori, ricorso accolto ma la settimana corta resta in vigore fino alla sentenza di merito. L'attenzione si sposta ora sul Tar. Il Consiglio di Stato ha ritenuto prevalente l'interesse alla continuità didattica e in 90 contestano il sabato libero e ancora aperta la partita iniziata a settembre scorso sul calendario di lezioni dal lunedì al venerdì. Nel Taglio Basso, via Caravaggio, un rondò per migliorare la sicurezza. Ecco qui il progetto del rondò nella zona nord di Pescara. Migliora la viabilità all'incrocio con via Bernini e via Tiepolo, interventi anche sui marciapiedi. Proseguiamo sul Messaggero, piazza Sacro Cuore divisa tra restyling e mendicanti. Da sede del mercato a porta d'ingresso al centro città per chi arriva con il treno, gli operatori dopo il restauro, i problemi sono manutenzione e presenze indesiderate. Ci sono anche alcune foto storiche di questa importante piazza della città di Pescara. Nel Taglio Basso, Camera di Commercio e Angelucci, il Presidente. C'è la fumata bianca per il successore di Daniele Becci. Andiamo sulla pagina dell'area metropolitana. Ritroviamo l'incontro tra il Comitato Vittime Rigopiano e Mattarella. Rigopiano, un problema del Paese. Il Presidente riceve i parenti delle 29 vittime, i sopravvissuti. L'accertamento della verità non riguarda soltanto voi, ha detto Mattarella. Dal Capo dello Stato un forte richiamo alle istituzioni locali. Mi auguro che oltre alla solidarietà ci sia una attività concreta. Torniamo sul Quotidiano Il Centro, proseguiamo e completiamo la lettura delle pagine di Pescara. Hanno distrutto tutto, ma non mi arrendo queste le parole dell'allevatore Paolo Di Biase. Dopo l'incendio doloso alla stalla da bateggio, il gestore si interroga sui responsabili e il movente. Non ho sospetti, dice. Nel taglio basso, tombini otturati a Porta Nuova, l'associazione contribuenti dall'allarme in tere zone, sono a rischio allagamenti in caso di piogge forti. Ancora, campionato di pasticceria, vince il pescarese Pucca. Il professionista tionfa a Rimini con una creazione che si ispira a Alladin. Ora lo attende una sfida in corpo impegnativa, la Coppa del Mondo di Lione. Andiamo sulla pagina di Montesilvano. L'assemblea di Montesilvano BCC via al processo a Borgia. Il PM chiama in aula 155 soci. Il Presidente è imputato per 148 deleghe ritenute dall'accusa false o irregolari. La difesa convoca 1.300 testimoni. Un curatore speciale rappresenterà la banca. Nel taglio basso aprono i centri sociali di Pietro e Zellis. Le strutture intitolate a due cittadini illustri si trovano in Via Lago di Bomba e in Via Antonelli a Montesilvano. Nella pagina dell'area metropolitana a Pianella il Belvedere porterà il nome del soccorritore eroe. Domenica la cerimonia in omaggio ad Andrea Pietro Lungolo, speleologo, morì dopo tanti interventi per il maltempo. Andiamo adesso nella pagina di Francavilla. Acqua, bollette con mora, maxi causa contro l'aca. A Francavilla i cittadini si rivolgeranno a un'associazione di consumatori. Il Presidente Toro, chi non ha ricevuto i bollettini, non deve pagare le sanzioni. Poi il carnevale sempre di Francavilla. Sui carri allegorici salgono satira, pittura e patanello. Torna il carnevale d'Abruzzo con la 64esima edizione. A Manopello scoperta discarica di bottiglie sul lungo fiume. A trovarle sono stati i ragazzi del Mosca Club Pescara che hanno ripulito l'area. Contenevano del latte. Nella pagina di Penne Popoli e dell'Alta Val Pescara, assemblea pubblica, siamo pronti a occupare l'ospedale San Massimo. Il comitato che difende la struttura sanitaria dipende sul piede di guerra. Il Presidente dice boicotteremo i partiti responsabili del killeraggio dell'area vestina. Andiamo avanti sempre sul quotidiano Il Centro e nella pagina di Chieti in apertura troviamo la Camera di Commercio. Chiuso l'accordo per Angelucci Presidente. Riunione in Confindustria per trovare il candidato alla Presidenza. Gli imprenditori raggiungono l'intesa per il dopo Beci. E proprio su Beci c'è la richiesta del sindaco di Chieti Umberto Di Primio di intitolare una sala della Camera di Commercio Tiatina in via Pomiglio alla memoria di Daniele Beci. Nel taglio basso andiamo a vedere le altre notizie. Rubata la cassaforte della chiesa a Vasto, i ladri caricano il forziere su un furgone sparite almeno 30 mila Euro e poi a Rocca Montepiano stroncato da un infarto nel bosco. Si tratta di un uomo di casa di Incontrada che stava tagliando la legna con il fratello Domenico Malandra, 69 anni. Andiamo sul messaggero adesso alla pagina di Chieti. Andiamo a vedere le principali notizie. Entro 15 giorni torna l'autovelox da un milione di Euro di multe. Partono i lavori per spostare l'impianto di un chilometro in direzione Brecciarola. In meno di un anno l'occhio elettronico ha già incastrato 25 mila automobilisti. Il trasferimento è stato disposto dal prefetto in quel tratto di Tiburtina, limite a 50 all'ora. Il caso Megalo 2, aria in sicurezza, ora battaglia dinanzi al Tar. L'udienza è fissata per il 23 marzo. Intanto l'asile proprietaria dell'area ha demolito il vecchio argine. Andiamo nella pagina della provincia. Turismo e boom di presenza è più 30%. Buoni numeri in tutti i settori, religione, arte, ambiente ed enogastronomia. La soddisfazione degli operatori frentani e lancianesi. A partire da quest'anno arriverà anche la tassa di soggiorno. La concorderemo con gli abbergatori. Sarà minimo di un Euro. Andiamo ancora avanti sul messaggero. Andiamo ad aprire adesso la pagina dell'Aquila. Ritroviamo una notizia che abbiamo già osservato nella pagina Abruzzo della città. Commercio scatta la fusione per tentare di superare la crisi presentata all'alleanza del Gran Sasso tra gli enti camerali di L'Aquila e Teramo. La sede resterà nel capologo di regione, ma entrambe le strutture saranno operative. L'obiettivo principale dell'accordo è agevolare le imprese del territorio. Andiamo a vedere nel taglio basso. Cocaina nascosta negli slip, arrestato uno spacciatore, il blitz dei carabinieri all'interno del parcheggio di un noto centro commerciale aquilano e poi il maxincendio di Fontevetica in quattro a rischio processo. Sempre nelle pagine dell'Aquila, per donanza a caccia di fondi nazionali, l'amministrazione comunale ha approvato una delibera per tentare di inserire l'evento nelle rievocazioni storiche. Nell'atto si evidenzia che la proposta artistica per il 2018 prevede l'arricchimento della collezione dei costumi utilizzati. E poi nella pagina di Avezzano Sulmona, rubata la telecamera antisporcaccioni, l'occhio elettronico era stato installato per identificare chi getta rifiuti per non pagare la relativa tassa ad Avezzano. L'assessore ha però deciso di acquistarne altre 10 che riescono ad identificare di eventuali ladri. Andiamo a vedere la pagina aquilana sul quotidiano Il Centro, eccola qui. Pesca a Seroli, si ipotizza l'omicidio colposo, neonata morte, il papà è sotto inchiesta. L'indagine passa alla procura di Sulmona, competente per territorio, accertamenti sul racconto del 27enne, oggi funerali della piccola Gaia. L'avvocato Cimini si è trattato di un tragico incidente, una caduta accidentale, avvisi ai genitori, saremmo in presenza di un formale atto a garanzia degli stessi, così l'avvocato. Da Sulmona, furbi del cartellino, chiesti i danni, conto da 300 mila Euro, la procura della Corte dei Conti dice in 18 devono risarcire il comune. Nel taglio basso, maxi multe per il trasporto degli animali, Avezzano, nel mirino 380 allevatori da pagare, oltre 3 mila Euro e un colpo ad un settore già in crisi. Andiamo ad aprire la pagina di Teramo sul centro, la sanità che cambia, il primario di Egidio va verso Pescara, potrebbe tornare a dirigere la radiologia del Santo Spirito e lasciare l'ospedale di Teramo dopo due anni e mezzo di lavoro. E poi, imprenditore in aula ha sfumato un investimento da un milione per il processo per le azioni ex tercas e poi l'Ignazio, candidato alla Camera con la benedizione di D'Alfonso. Andiamo a vedere la pagina di Teramo sul messaggero. La piscina ha un gestore privato, Palasca, c'è il rischio chiusura, questa è l'apertura della pagina. Ha pubblicato il bando per la Vasca, ha sparito il contributo comunale. Il palazzetto costa 350 mila Euro l'anno. Il commissario valuta la convenienza. Il settore sta vivendo una realtà dalle due facce, tra ripresa del nuoto e blocco di altre attività. Andiamo nella pagina della provincia. Movimento 5 Stelle, bocciato Simeone, si ha di Crescienzo. Non va in porto la candidatura del dirigente comunale che aveva sorpreso tutti, avanza invece il giovane architetto. E uno dei grillini della prima ora ricorda quando organizzava riunioni con quattro persone si schernisce. Sono solo supplente. Così questa notizia che arriva da Giulianova. Poi andiamo a vedere le altre notizie, sempre da Giulianova. Tentato furto all'ex di Gennaro, acquisite le immagini dei malviventi. E poi nel taglio basso scoperto una discarica abusiva a ridosso della zona turistica a Martinsicuro. E da Tortoreto, trasporto con gli scuola, bosse si cambia dopo la polemica. Andiamo sulla città per completare la lettura delle notizie da Teramo e provincia. Ripartiamo dalle polemiche per il palazzetto dello sport, il Palas Capriano. Giù le mani dal palazzetto dello sport, le società sportive protestano contro la ventilata chiusura da parte del commissario per motivi di bilancio. Andiamo avanti, la politica. Il PD Termano rivendica un candidato sicuro, ginobile primo della lista dei desideri, no alle ingerenze d'Alfonsiano, è possibile il divorzio tra Mariani e l'onorevole Rosetano. Ancora la politica. Parlamentari e tre terramani in corsa alla Camera. La Rosetana Corneli praticamente già eletta, poi il consigliere Berardini e l'informatico Mazzilli dagli Stati Uniti. Ancora Garrano prepara l'esposto contro l'ANAS. Lanciata la petizione, il comitato chiede alla stradale di verificare la sicurezza per pedoni e fermate del bus. Ancora notizie da Teramo e provincia. Aria tesa tra rossi e neri. Domani sera presidio antifa per il banchetto di casa Pound. Firmato l'accordo per completare Teramo Alta, l'imprenditore di Filippo Antonio e il broker Rapagna concluderanno l'operazione di Areal Bank. Poi nella Val Vibrata il PRG arriva in consiglio comunale. Tortoreto è giovedì la discussione sulle 160 osservazioni dei cittadini. Appoggio Morello, bomba ecologica a pochi metri dal campo di calcio. Andiamo adesso a Giulia Nova con il giallo della pittrice scomparsa. Al setaccio le telecamere sull'Adriatica. Il giallo della pittrice nelle immagini c'è un'auto identica a quella dei Santoleri. Dimesso Giuseppe Santoleri, ex marito della vittima, ha lasciato la clinica ed è tornato a casa dal figlio dopo il malore che lo aveva colto verso le politiche. Ancora c'è un quarto rosetano che punta al Parlamento. Bellachioma, coordinatore regionale di noi con Salvini, tra i papabili dopo la Corneli, Ginobble e Sottanelli. Torniamo adesso sul quotidiano Il Centro. Andiamo ad aprire la pagina dello sport. Partiamo dal Pescara, il mercato. Pescara in arrivo, Ingelson, Zampano e Quilibali verso Udine ai dettagli. È la trattativa con i friulani. Rosati dice sì al Delfino che punta Macin. Falco, K.O. in allenamento, rischio un mese di stop per una distorsione al ginocchio. Nel taglio basso, gli ex in vetrina durante il weekend. Ecco le storie che fanno discutere. Nuovo fattore Zeta da Zeman a Zenga. Benali protagonista da Mezzala a Crotone. Poi Petrella diventa un idolo a Trieste. Gol capolavoro contro il Ravenna. Adesso andiamo a vedere l'apertura invece dello sport sul messaggero. Il mio cuore diviso a metà. Il titolo, Colonnello, non mancherà la partita del Pescara contro il Perugia di venerdì. Il Delfino può decollare. Basta guardare al gioco. Nel ritorno contano solo i punti. Così le parole di Colonnello. Poi Falco arriva e si fa male. Il Perugia invece va su Fornasier per quanto riguarda il mercato. Nel taglio basso troviamo la Serie D. L'Aquila, oggi il piano per finire la stagione. Convocata all'Assemblea dei Soci per stabilire tutti i passi finanziari indispensabili. Già che ci siamo andiamo a vedere la pagina successiva sul messaggero che riguarda la Serie C principalmente. Teramo c'è Palladini. Pochi accorgimenti. Patron Campitelli rivoluziona tutto. Stufo dei pianistei di Asta in televisione. Il nuovo trainer ha parlato alla squadra. Federico sarà il direttore sportivo. Questo per quanto riguarda la rivoluzione in casa Teramo. Proseguiamo sempre a parlare del Teramo. Tra poco ascolteremo le parole di Campitelli e di Palladini. Campitelli sceglie Palladini e Federico. Serie C il patron del Teramo. Esonerà Asta. Piange troppo in tv. E il DS Repetto. Guai a parlare di salvezza. Voglio di più. Ha detto Campitelli. E poi il posticipo. Albinoleffe Renate. Finita 2 a 0. Il nuovo tecnico. C'è un approfondimento. Chiede un centroavanti da 4-3-3. Idea a Tunkara. Cambia lo staff. Il vice è volta attorni. Asta deluso. Non mi va proprio di parlare. Così l'ex allenatore. Andiamo a vedere anche il titolo della città. Per completare questa panoramica sulla rivoluzione in casa Teramo. Teramo cambia. Ecco Palladini. Via anche il DS Repetto. Ribaltoni in casa Diavolo. Via Asta. Arriva l'ex Samb. Anche il DS al passo da Dio. Sandro Federico il sostituto. Ci sarà l'esordio a Ravenna per il tecnico esonero deciso sabato sera. Dopo la sconfitta contro il Vicenza. E allora andiamo a vedere insieme le interviste realizzate da Jacopo Forcella al patron Campitelli. Al nuovo allenatore Palladini. Si è deciso così. Il progetto con Asta finiva a giugno. E vale la pena ripartire già che stiamo avvantaggiati in futuro. Quindi spero che Ottavio per la sua grande umiltà, la sua saggezza ci possa portare più su possibile quest'anno. e poi ripartire con un bel progetto per il prossimo. Hai parlando in conferenza stampa della posizione di Giorgio Repetto, Presidente. Lei ha detto che quando tornerà parleremo con lui. Ma ne hai parlato anche un po' al passato. Come se Giorgio Repetto fosse già il passato del Teramo. Perché sembra essere Sandro Federico il prossimo direttore sportivo del Teramo? Ma credo che Giorgio è una persona di alto livello, di alto profilo. Ma è un mio pensiero. Credo che questa categoria, l'ho detto più di una volta, per la sua grande professionalità sia stretta. Perché Giorgio è uno scopritore di talenti. Quando tu scopri un talento poi lo devi acquistare. Oggi in Serie C puoi acquistare solo le pezze, i pantaloni, perché non ci sono soldi. E quindi credo che un talento come lui non si potrà mai appassionare in Serie C. Come dire che è un matrimonio che si doveva fare e che poteva già esserci qualche mese fa. Ringrazio il Presidente che mi ha dato questa grossa opportunità. Non ci ho pensato due volte perché poi voglio rimettermi in discussione. Voglio cercare di fare qualcosa di importante per me, per il Teramo e per tutto l'ambiente. Quindi cercare di fare quello che è stato sempre il mio modo di fare. Cioè lavorare con la massima umiltà sia da allenatore che poi da giocatore. E' quello che ho sempre fatto. E cercare di sudare i ragazzi sempre perché solo così possiamo arrivare agli risultati. La Rosa la conosci bene, l'hai già vista, hai già visto giocare il Teramo. Quali sono secondo te i punti di forza e quelli di debolezza di questa squadra? Penso che sia una squadra che ha delle qualità. Delle qualità che vanno migliorate, che vanno fatte sul campo con il lavoro. E che possa fare ancora meglio di quello che sta facendo. Proseguiamo sulle pagine del centro nella lettura dello sport. Serie D, gli abruzzesi del girone F. Fiore, Vastese ritrovata, Pomante. Pineto scusa il capitano dei Biancorossi. Obiettivo playoff, ora siamo più solidi e compatti. Il difensore fa mia colpa. Non abbiamo avuto l'atteggiamento giusto, io in primis. Scendiamo nel taglio basso. Eccellenza Giulianova attacca agli arbitri il DG della capolista Vernacotola. Errori e comportamenti irrispettosi per la promozione. Luco bracca la Virtus Teramo. Delfino un guizzo d'autore. Poi i protagonisti del calcio giovanile, con il Cologna che piega l'Alba Adriatica e riapre la lotta per il primo posto. Negli viregionali, il calcio Giulianova e Virtus Vasto volano. Nacque Sapono, una manita a Ripa e ancora ai giovanissimi Curi e Pescara e River dettano legge. Colpo esterno della Virtus Lanciano. Nella pagina successiva il basket di A2 e Roseto punta su Amici per tentare la risalita. L'ala della Fortitudo Bologna nel mirino degli Shax che domenica si giocano una fetta di salvezza in casa contro Orsi Nuovi. Nel taglio alto Atletica di Fino e Donatelli brillano ad Ancona. Sempre per il basket invece di Serie B, l'amatore all'assalto del secondo posto. Teramo cerca un lungo e per il calcio a 5. Clamorosa svolta in panchina, questa Ponerici, area di rottura. Oggi il probabile divorzi in arrivo un tecnico dalla Spagna. Completiamo anche la lettura delle pagine dello sport sul Messaggero. L'Aquila con Via Cava, ecco la spinta in più. L'Argentino ha ricevuto i complimenti di tutta la squadra. Angelini mi piace come attacca la linea, è uno dei migliori. Stiamo parlando chiaramente del rugby. E poi il volley di A2, sieco calendari via alla pool. Si parte il 4 con Aversa. Il basket di A2, Roseto, stallo pericoloso per l'obiettivo play-out. Le altre si sono rinforzate nel taglio basso. Troviamo la Serie D, Nero Stellati per la salvezza si fa dura per la squadra appena affidata a Mister Di Corcia. E poi il torneo Tom Rosati, vincono gli All Stars. Era questa l'ultima notizia. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche questa mattina. Vi auguro una buona giornata. Io vi ringrazio per la salvezza. Io vi ringrazio per la salvezza.